Allora ragazzi, in questi giorni di casa Rosy si è fatto una vera e propria cultura sulle Olimpiadi Quindi amore, mi fai la top 3 di sport che ti piacciono di più? Sono sicuramente una delle più belle coppie del web Sono gentili, polemurosi l'uno con l'altro E adesso pure al settimo cielo per l'arrivo della loro piccolina Stiamo parlando della coppia più innamorata e felice di questo momento Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò Ma dove sono i due ragazzi? I due ex geffini, come tantissime persone in questo periodo estivo Sono al mare a godersi un po' di sole Andrea è sul lettino ad abbronzarsi al sole Come una lucertola e la bella Rosalinda sotto l'ombrellone E' inutile dire, la gravidanza ha reso la ragazza ancora più bella E lei con quei bellissimi occhietti brillanti e quel cappellino di paglia sulla testa E' sempre proprio una stella Ma com'è fame? Ma ha mangiato già Vedi la pappa Ma la pappa la vuoi? La pappa? Ma la pappa l'ho fatta poco fa Ma la pappa l'ho fatta poco fa Grazie a tutti.